In quest'ultima ora andiamo a fare qualche esercizio riguardante la topologia, in particolare per prima cosa, a margine di quello che abbiamo fatto a lezione ieri, vogliamo introdurre la nozione di punto di accumulazione e punto isolato, abbiamo un insieme enti di uno spazio metico, x con 0 si dice di accumulazione per E, se solo se per definizione B, x con 0, y, intersecato E, meno x con 0, è diverso da un po' di fenomeno y, quindi se vi ricordate questa è esattamente la definizione di punto di aderenza, tranne che per questo sono di comodo, quindi, allora, prima osservazione, se x con 0 non appartiene ad E, implica che x con 0 è di accumulazione, se solo se x con 0 è di aderenza, cioè i punti di aderenza sono quelli che stanno nella chiusura, quindi i punti che stanno nella chiusura di E, ma non in E, automaticamente sono di accumulazione, lo scrivo meglio qua, cioè se x con 0 appartiene a D, aderenza, meno E, x con 0 è di aderenza, meno E, x con 0 è di aderenza, meno E, x con 0 è di aderenza. Se invece x con 0, per quale lo dico, se x con 0 non stava in E, alla fine questa operazione non sposta niente, perché togliere x con 0, sa già che non stava in E, se era diverso da vuoto prima, è diverso da vuoto pure dopo, perché una volta che è intersecato con E, già ce l'è dopo, x con 0. Se invece x con 0 appartiene ad E, hai due possibilità, o x con 0 è di aderenza, x con 0 è di accumulazione, oppure esiste ε maggiore di 0, tale che la sfera x con 0 è intersecato E, è uguale esattamente a E. Se non è di accumulazione, vuol dire che esiste accumulazione x, tale che questo venga vuoto, ma se questo viene vuoto, prima di togliere x con 0, ci dovrà stare x con 0, perché x con 0 siamo sicuri che stava in E, e siccome stava in E, stava nella sfera, stava anche nell'intersezione. Quindi, se non è di accumulazione, vuol dire che a un certo punto, quando vai a fare questa sfera, intersecato E, rimane solo x con 0, e questo si dice, x con 0, in questo caso dice, è un punto isolato. Allora, facciamo un esempio, più che fare figure, facciamo un esempio, prendiamo, 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 0, 1, 0, 1, unito 1, 2, unito il punto 3, questo è il punto 3, che è l'insieme dei punti di accumulazione. Se vado a fare l'insieme dei punti di accumulazione di E, qui mi viene, vediamo un po' se avete capito, dovete fare la chiusura, meno i punti solari. non è di accumulazione. Allora, mica abbiamo detto che se non ci appartiene non è di accumulazione, se non appartiene è di accumulazione, se è di aderenza. Quindi anche i punti 0, 1 e 2, che sono di aderenza, e non stanno in E, sicuramente vanno raggiù. Tutti quelli che stanno in questo intervallo, in questo intervallo, sono di accumulazione. questo, no, perché, adesso faccio la figura, 0, 1, 1, 2, qua ci metto 3, quando vado a fare l'intorno di 3, se lo prendo abbastanza piccolo, se lo prendo grande, è grazie che intersega E, ma se lo prendo abbastanza piccolo, intersega E, ma solo in questo punto, quindi poi quando ci vado a togliere x, non 0, rimane, quindi è un punto solo. Chi sarebbero, per esempio, i punti isolati dell'Italia? La migliore approssimazione di un punto isolato, per quanto riguarda un paese? Per quanto riguarda un punto isolato, effettivamente, per ci andare all'isola, vedi che la distanza c'è, si sente. Però, le ambasciate, no? Quando c'è un'ambasciata all'estero, e quello è un punto di Italia, oppure anche una nave, se tu l'ha identificato con uno, ovviamente, ovviamente non è, però, una nave patente, bandiera italiana, eh, scusa, vediamo. Prendo certi limiti, eh. Nei limiti del diritto internazionale. Ok, quindi questo è il concetto di punto di accumulazione. O. Osservazione, la scrivo qua. Osservazione. Se x con 0, ah, x con 0, anzi, chiamocci x con 0, è di accumulazione per e, se, e solo se, esiste x con n contenuta in e meno x con 0, tale che il limite di x con n è uguale a x con 0. Questa, è vero che è una dimostrazione, però è un esercizio, quindi possiamo farlo tramite degli esercizi. Cioè, quando è che è un punto di accumulazione? Quando io posso trovare un'altra successione di punti che stanno in i, che convergono a lui, quando n deve andare in i, ho qua, attenzione alla notazione, perché siccome per me n parte da 1, x con 0, il limite lo posso chiamare x con 0. Quindi non è un elemento della successione. Se non volete, diciamo, avete paura di creare confusione, il limite chiamatelo al, oppure chiamatelo y con un altro leggo. Chiaro? Come si fa la dimostrazione di questo fatto? Cancello, lo faccio qui. Cioè, questo è un vero e proprio esercizio, quindi, ha senso fare un altro esercizio. Per dimostrare questa osservazione, devo prima far vedere che se è di accumulazione trovo la successione, e poi far vedere che se trovo la successione è di accumulazione. Allora, fisso n appartenente a n, prendo la sfera dicendo x con 0 e raggio 1 su n, la in terza è componente, ci tolgo x con 0, so che è diversa da quoto, e ci prendo qua dentro, ci prendo x con 0. Se è diversa da quoto, ci sarà un punto, no? Prendiamo un punto e chiamiamo x con 0. Allora, qual è la distanza di x con n da x con 0? Quanto fa? Beh, a me, quello che mi interessa è che questo sta nella sfera dicendo x con 0 e raggio 1 su n, quindi la distanza di x con n da x con 0 è minima di 1 su n. e ovviamente è maggiore di 0. Quando n tende a infinito, questa distanza tende a 0 e quindi questo vuol dire che x con n tende a 0. Se vi ricordate, l'abbiamo visto ieri, quando è che x con n tende a l, quando la distanza di x con n tende a l tende a 0. Chiaro? Ok. E però uno dice, non ho una mala successione, dovrà stare n e meno x con 0. E infatti, questo tag è n e meno x con 0. Qualcuno potrebbe obiettarmi, ma tu qua la differenza, come si legge qua la matematica? Fai prima intersecato n e meno x con 0 oppure fai prima intersecato n e meno x con 0? Non ci ho messo le paranti perché è la stessa cosa. Cioè, o fate prima questa differenza qua e poi l'intersezione, o fate prima questa intersezione qua e poi la differenza, viene esattamente lo stesso, avviso? Adesso andiamo a vedere l'altra freccia. Beh, noi cosa sappiamo? Sappiamo che x con n tende a x con 0. Allora io prendo la sfera di 100 x con 0 e raggio epsilon. Allora io so che esiste un indice ni, tale che se n è più grande di ni, la distanza di x con n da x con 0 è minore di epsilon. Ma io so, quindi adesso, nella sfera di 100 x con 0, raggio epsilon, intersecato e meno x con 0, chi ci sta? Sicuramente ci sta x con n per ogni n maggiore uguale a n. E quindi sicuramente non è. Non è vuoto. Questa qua stava in e meno x con 0 per ipotesi. Qua ci sta per definizione successione convergente, quindi da un certo punto in poi sta in questa sfera qua. Quindi da nì in poi questi qua stanno tutti qua dentro. Quindi in realtà, quando io vado a dire che questo non è vuoto, questo qua deve contenere sempre infiniti punti. Non può contenere 3 punti, un numero finito di punti questa intersezione qua. perché se condesse solo 3 punti, io prendendo delle spedette un po' più piccole, li escluderei, quindi quello non è di accumulazione. Nel momento in cui questo non è vuoto, sappiamo già che questo insieme qua, tolto x con 0 è infinito. Quanto meno deve essere una successione successiosa. Perché infatti vedete che quando andiamo qui, chi ci sta in questa sfera qua? Tutta la successione tranne un certo numero di termini. Quindi la successione deve stare, almeno una successione di punti da un certo punto in poi. Da un certo indice in poi, deve stare. Quindi non possiamo avere un punto di accumulazione che quando vado a fare l'intorno ci capitano solo 3 punti di E. Non è possibile. Ok? Ah, mi sono dimenticato, dobbiamo fare i terremi di Cesaro, sempre sulle successioni. Quindi topologia finisce qua, per adesso. Abbiamo ancora mezz'ora, quindi preferisco fare i terremi di Cesaro. I terremi di Cesaro sono pure, diciamo, molto adatti agli esercizi. Quindi sono, diciamo, non sono così importanti da fare la mattina come teoria, ma funzionano bene per risolvere tutta una serie di esercizi. Allora, prima Terema, Terema di Cesaro. Ernesto Cesaro è matematico di due secoli fa. Allora, cosa dice? Supponiamo che io ho una successione di numeri reali. E supponiamo che il limite di A con N faccia L. Andiamo a fare il limite di questa successione qua, di A con 1 più A con 2 più A con N fratto N. Questo qua ancora è. Attenzione, il viceversa non è vero, eh! Queste sono le ipotesi, questa è la desica. Il viceversa non è vero. Allora, pensate alla successione meno 1 alla N. Quando andate a fare le medie di quella successione vi viene, quando fate meno 1 su N fa meno 1 su N, meno 1 più 1 su N fa 0, poi insomma viene o 0 o meno 1 su N. Ma in quel caso il limite fa 0, però la successione di partenza invece non aveva limite. Quindi, lo ripeto, se la successione di partenza converge a L, la successione delle medie aritmetiche della successione di partenza converge pure a L. Abbiamo detto che il viceversa non è vero. Allora, supponiamo di sapere che la successione delle medie aritmetiche converge a 3. Cosa posso dire sulla successione di partenza? Potrebbe convergere a 7? No, perché se la successione delle medie convergeva a 7, pure questa convergeva a 7. Allora, se la successione delle medie convergesse a 3, cosa potrebbe dire sulla successione di partenza? O converge a 3, o non converge proprio. Ma non può divergere, oppure, perché questa cosa vale anche se questo limite è più infinito o meno infinito. Allora, come si fa a dimostrare? Allora, io dico sia ε maggiore di 0. Allora, io so che esiste un primo indice che chiamo ν, tale che se n è più grande di ν, allora A con n è compreso tra L più ε mezzi ed L meno ε mezzi. adesso andiamo a fare adesso andiamo a fare A con 1 più A con 2 più A con n fratto n questo lo posso scrivere come A con 1 più A con 2 più A con n fratto n fratto n, scusate e poi ho semplicemente scritto che il denominatore è lo stesso, il numeratore è lo stesso, il numeratore di quello è la somma dei numeratori, ora osservate che questa quantità qui il numeratore è fisso, n va infinito, quando n è n infinito tende a 0 mentre quest'altra quantità qui è compresa diciamo questa qua chiamiamola Pn tutta questa quantità allora P con n è compresa tra L più ε mezzi che moltiplica n meno mi su n ed L più ε mezzi che moltiplica n meno mi su n perché? vabbè, la n sotto ci sta da alterare il numeratore quanti termini ha? n meno n e io so che ogni termine è compreso tra L meno ε mezzi ed L più ε mezzi e mezzi allora cosa posso dire? allora cosa posso dire? perché? allora questo tende a 1 questa quantità n meno n fratto n tende a 1 quindi questo è fisso, non si muove allora da un certo punto quando n è abbastanza grande questo sarà minore per esempio di L più 3 quarti ε allo stesso modo se n diciamo tale che se n è maggiore o quattro di 2 allora da n di 2 in poi magari questo sarà maggiore qua c'è la meno di L meno 3 quarti ε questo per n maggiore di 2 sarà minore di il valore assoluto di ε un quarti quando lo aggiungete L più 3 quarti ε più 4 ε ma L più ε L meno 3 quarti ε meno 4 ε fa L meno ε se l'avete capito bene se no provate a farlo per esercizio magari vi riguardate quest'ultimo pezzetto che manca e non tutto il resto l'ho fatto io chiaro? cioè sostanzialmente quando n è grande questo è circa L più ε mezzi questo è circa L meno ε mezzi quest'altro 2 è piccolo e alla fine è chiaro che dal basso lo posso approssimare con L meno ε che cosa ho dimostrato? ho dimostrato che dato un ε è stato un ε maggiore di 0 da un certo punto in poi da ogni 2 in poi la mia successione delle medie aritmetiche è compresa tra L meno ε e L più questo vuol dire la norma di definizione che la successione converge a L per capirci per capire meglio questo risultato voi avete supponete che a con n tenda a 100 allora da un certo punto in poi i valori della successione sono compresi tra 99 e 101 però quando fate le medie ci stanno pure i primi termini i primi termini possono far sì che la media la media viene 78 ok? però se tu adesso mettiamo da mille in poi da A con mille in poi i temi della successione sono compresi tra 99 e 101 quando vai a fare A con 10.000 diciamo A grande con 10.000 i primi temi della successione che davano la media 78 sono al massimo 1000 chiaro? quindi gli altri 9.000 sono compresi tra 99 e 101 quindi la media adesso un po' fa più 78 può fare 95 105 la cosa del genere oppure 90 100 si 90 a occhio e croce fa 97 se invece lo vai a fare su 100.000 i termini che danno problemi sono sempre solo 1000 mentre tutti gli altri sono compresi tra 99 a 101 stavolta la media farà 98 e mezzo 101 e mezzo insomma se tutti i termini sono compresi da un certo punto in poi tra L più Y mezzo e L meno Y mezzo anche le medie da un certo punto in poi sono comprese tra non proprio questa cosa un po' più piccola L più Y mezzo basta prendere lì abbastanza grande per compensare cioè per far sparire l'influenza dei primi termini mettila così a un calciatore i primi tre anni ti ha segnato 7 12 e 15 gol poi da 4 anni in poi hai cominciato a fare sempre 27 gol 27 gol 27 gol 27 gol la media dei gol fatti dopo 20 anni di attività sarà sarà quasi 27 no? i primi tre anni su 20 anni di attività saranno poco influenti se il calciatore rimanesse in attività per 200 anni perchè è un super uomo allora chiaramente la media si vicerebbe ancora di più a 27 ok quindi questo è il teorema di Cesaro primo teorema di Cesaro numero 2 andiamo a vedere il teorema di Cesaro numero 2 poi vediamo le applicazioni teorema Cesaro questo 1 abbiamo una successione a con n di numeri reali a con n tutti positivi e supponiamo che il limite di a con n faccia l allora tesi se andiamo a fare il limite della radice ennesima di a con 1 per a con 2 per a con n questo deve fare un greco questa si chiama media geometrica quindi se è una successione come lg a l anche la media geometrica come lg a l la media geometrica la media geometrica dei primi n del 2 un po' meglio o io il teorema di Cesaro l'ho fatto nel caso che il limite fosse finito eh voi per esercizio potete farlo nel caso l è più infinito quando la successione diverge è più facile ancora qua basta applicare il teorema precedente per quel motivo la radice ennesima di a con 1 per a con n questa è l'esponenziale di 1 su n per il logaritmo di a con 1 più il logaritmo di a con 1 allora qui c'è un trucco un numero a è sempre l'esponenziale del logaritmo naturale di a per definizione faccio prima il logaritmo poi faccio l'esponenziale del logaritmo e trovo il numero di a questa è la funzione che erano immerse uno dall'altro ricordate se il numero a è positivo per esempio fate 8 logaritmo in base 2 di 8 fa 3 2 alla 3 fa di nuovo qua logaritmo in base e di a fa logaritmo di a e elevato al logaritmo in base e di a per definizione fa o allora quindi qua questo posso fare l'esponenziale del logaritmo di questo ma quando vado a fare il logaritmo di una radice questo è 1 su n per il logaritmo di quello che siete radicando ma il logaritmo del radicando che è un prodotto è la somma dei logaritmi ok cosa succede quando n tende a infinito? allora a con n tendeva a l ecco qua ci manca che se una successione tende a l il logaritmo di questa successione a chi tenderà? al logaritmo di l quello poi lo dimostreremo appena faremo le funzioni quindi questo qua tende al logaritmo la successione delle medie aritme al logaritmo di a con n tende a l pure l'un ma per il teorema di Cesaro allora lo scrivo qua l'in del logaritmo di a con n è uguale al logaritmo di n questo lo sappiamo perché lo sappiamo li mostreremo quando faremo le fuzioni ora che cosa succede? se il logaritmo di a con n tende a l questa chi è? e sono le medie del logaritmo ma siccome il logaritmo tendeva a l le medie di logaritmi di questa successione tendono pure a l quindi questo qua che cosa tende? all'esponenziale del logaritmo chi è? che vale? finito ok? cioè per capirci a con n tendeva a 5 il logaritmo di a con n tende al logaritmo di 5 quando vado a scrivere questo mi tende al logaritmo di 5 pure lui perché è la medie aritme ma questo è uguale all'esponenziale che tende all'esponenziale del logaritmo di 5 l'esponenziale del logaritmo di 5 va di nuovo 5 quindi è puramente un passaggio oggetto fate però attenzione adesso faremo delle applicazioni eh sto andando un po' veloce perchè vabbiamo mai l'esercizio che qua c'è un piccolo inghippo tutti gli a con n questa volta prima non mi importava ma questa volta tutti gli a con n devono essere così eh perché? prima di tutto se è negativo non lo puoi fare cioè la radice non la potresti non poterla fare perché magari c'è radicando pari e la radice cioè scusami la radice di indice pari e radicando negativi ma soprattutto anche se uno solo fosse zero questo prodotto farà zero la radice ennesima farà zero quindi la cosa non funziona più perché non funziona più? e quando andata a fare qua il logaritmo il logaritmo di zero non se lo fa chiaro? o comunque volendo interpretarla in maniera piuttosto libera il logaritmo di zero va a meno infinito quindi qua mi viene meno infinito l'esponenziale di meno infinito va a zero cioè pure avete tutti gli altri logaritmi possono fare quello che vogliono ma si sono finiti ma basta uno che è logaritmo di zero che ovviamente questo prodotto fa zero la radice ennesima quindi in quel caso non vale più a con n potrebbe convergere benissimo a tre ma radice ennesima di quel prodotto potrebbe convergere potrebbe essere sempre zero o almeno l'oggetto di voi dopo che uno degli a con n vale zero potrebbe essere andiamo a vedere qualche applicazione di questo terreno allora prima applicazione andiamo a fare questo limite quando va? quando va? è facile chi dovete applicare? chi dovete applicare? secondo te a quale successione? quale successione? quale successione? quale successione? quale successione? la successione è molto semplice quindi se io prendo a con n uguale n a con 1 per a con 2 per a con n chi è? n fatto? quindi questa qua è esattamente applicata alla successione n ma la successione n che fa? d diverso e allora anche questo questo lì fa più i fi va bene? va bene? andiamo a vedere? sì 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 Grazie a tutti. 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 Gli agonelli sono tutti positivi. Quindi abbiamo questa situazione qua. Adesso andiamo a fare il limite nella radice ennesima di agonelli. Quanto farà? Io dico che fa L pure 1. Per quale motivo? Dobbiamo applicare la successione a con n, dobbiamo applicare la successione a con n, dobbiamo applicare la successione b con n, uguale a con n più 1 fratto a con n. O a con n fratto a con n meno 1. Mentre b con 1 lo prendo a con 1, solo b con 1. A con 0 lo prendo così possibile. Questo per n maggiore a con n maggiore a con n, maggiore a con n, ok? Adesso andiamo a vedere, perché questa successione qui, come è già L, come è lei no? Allora adesso, siccome questa qua, sappiamo che come è lei no, è b1 per bn, quanto fa? Fa a con 1 per a con 2 su a con 1, per a con 3 su a con 2, per a con n su a con n meno 1. Semplificando rimane a con n, quindi il limite della radice ennesima di b1 per bn è uguale al limite della radice ennesima di a con n, ma questo per cesare sappiamo che fa L e quindi anche questo non fa L. Ok? Allora, perché dico questo? Come lo possiamo applicare in questo fatto qua? Andiamo a vedere, andiamo a fare il limite della radice ennesima di, n fattoriale fratto n alla n, voglio fare questo limite qua. Allora, per fare questo limite qua, mi basta fare, faccio n fattoriale fratto n alla n, per n meno 1 alla n meno 1 fratto n meno 1 fattoriale. Allora, facciamo semplificare. Allora, facciamo semplificare, n fattoriale a n meno 1 fattoriale rimane da n su, qua rimane n meno 1 alla n meno 1, poi qua rimane n per n alla n meno 1. la n la semplifico qua mi rimane n-1 fratto n elevato alla n-1 questo qua non è altro che quant'è questo limite qua? io dico che fa 1 su e questo qua se n-1 lo chiami n questo qua non è altro che n fratto n più 1 alla n-1 lo chiami h questo qua non è h fratto h più 1 alla h che è uguale a 1 fratto il reciproco, il reciproco è 1 più 1 su h alla h quando h tende a infinito questo tende a i questo di sotto tende a i quindi il reciproco tende chiacchiere? capisco? questo è un attimo più difficile però non è altro che l'applicazione di cesare allora questo cosa mi dice? mi dice che sostanzialmente è la radice ennesima di n fattoriale fratto n alla n ecco questa qua sappiamo che tende a e tende a 1 su e questo limite qua 1 su e quindi questo qua a un certo punto sarà circa 1 su e sarà compreso tra 1 su e più epsi 1 su e meno epsi allora se questo è circa 1 su e n fattoriale chi è? elevato alla n portate n alla n dall'altra parte questo qua viene circa n alla n su e alla n questo circa è molto circa perché la formula vera l'ho fatta vedere prima elevando alla n una piccola incertezza qua abbiamo 1 su e meno qualcosa o più qualcosa che dipende da n quando vado a elevare la n in realtà la formula vera porta un radice di 2pi greco a n però l'andamento asintotico è vero che questo fratto questo non tende a 0 va a infinito però grosso modo questa è compatibile con questa questa tende a 1 su e quando andate a fare la radice di 2pi la radice di 2pi greco a n non la dimostriamo la pigliamo per vera perché dimostrare è troppo lunga però questa invece l'abbiamo dimostrata chiaro? è un esercizio già che noi siamo in grado di fare l'altro è più complicato si può andare a vedere sull'infero lo possiamo fare non c'è problema in realtà se lo fa però ovviamente richiederebbe uno sforzo più elevato ok? vediamo che lo so allora facciamo un piccolo riepilogo cosa abbiamo visto oggi? oggi abbiamo fatto una lezione ibrida sono stati esercizi ma esercizi un po' più pesanti allora sulle successioni abbiamo calcolato qualche linea di successione per esempio quello che ci dà la costante dell'eroma scherone nel far questo abbiamo approfittato per ripassare per ripassare il grafico della funzione esponenziale della funzione logaritmo sia pure un po' velocemente poi abbiamo fatto qualche altro esercizio sempre sulle successioni poi abbiamo parlato molto diffusamente della funzione esponenziale anche in relazione alle proprietà per esempio per quanto riguarda l'informatica la crescita esponenziale è importantissima importantissimo in particolare sapere cosa sapere se la complessità di un programma di un'applicazione che dipende da un parametro n cresce cresca polinomialmente oppure esponenzialmente perché con i computer che sono molto veloci le crescite di tipo polinomiale tu le riesci a gestire per quanto per quanto faccio un banalissimo esempio questa è matematica applicata voi avrete fatto in informatica algoritmi perordinari se non l'avete fatte ancora li farete ben presto allora vedrete che voi avete il bubble sword tu confronti ogni elemento con gli altri lo fai salire fino a che fai salire il primo vedi che è il più piccolo poi vedi il secondo più piccolo eccetera questo c'è una complessità dell'ordine di n quadro mezzi cioè io devo fare n quadro mezzi confronti per andare a determinare l'ordine della lista questo n quadro mezzi cresce abbastanza lentamente però pure cresce se i termini sono 100 i confronti da fare sono 5.000 ok invece se un merge sort che fa il numero di confronti da fare è del tipo n per logaritmo in base 2 di n allora se n è 100 logaritmo in base 2 di n è minore di 7 perché 2 alla 7 è 128 e i confronti sono circa 700 adesso 700 rispetto a 5000 è di meno e dice come si fa e dice ma vabbè il computer si mette una frazione di secondi però il professore quando deve ordinare 100 compiti ti mette noti alfabetico ci mette i secondi a vedere allora come fa il professore mica si mette a fare il bubble sort se si mette a fare il bubble sort è scemo perché ci mette un'ora solo all'ordinario invece nell'altro modo 100 diciamo un'ora diviso 7 fa meno di 10 minuti in 7-8 minuti ha ordinato i compiti in ordine perché poi giustamente quando devi fare la lista dei risultati se succede se ne consegue che mai far venire 100 studenti a fare l'esame tutti insieme perché se tu ne hai 50 e 50 per molto prima comunque al di là degli scherzi effettivamente come fa il professore a ordinare i compiti in ordine alfabetica faremo che e prima ordiniamo che che poi fa quattro e finare se ne ti ha fino chiaro? va bene però ti passa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti